Ora, come va? Bene. Bene, grazie. Ricordo bene. Grazie. Il nostro momento nazionale. Questo è il fatto. Allora. Per nutrire l'Italia. Questa è la sera operativa. Attualmente quella è la portata che raduce sulla fronte principale. Le due sorgenti di Capodacco e di Pescara si riscono insieme e poi proseguono verso la costa. Questa è tutta la panoramica fino ad arrivare a San Mieto del Tronto. Iniziamo l'illustrazione al Presidente di così recuperiamo un po'. Vai. Sì, il Presidente è stato in condizioni assolutamente pericolanti e pericolose. E soprattutto il problema è il salvezamento di Capodacqua che ha manufattuto durante il periodo. Grazie.